Eccoci e bentornati su GoGames, siamo su Diablo 4 e in questo video andremo a fare una secondaria. Probabilmente le vedremo tutte, ma vediamo. Se volete abbiamo appena aperto il clan, come potete vedere si chiama Goggins, quindi se volete unirvi al clan tranquillamente unitevi, cercatelo con questo nome, il clan è aperto e ovviamente non necessita di troppi sbattimenti. Quindi quando volete giocare giocate, divertitevi, giochiamo insieme, ci divertiamo, non ci sono obblighi per cui andate proprio tranquilli, farmiamo, facciamo tutto quello che c'è in game ma senza obblighi per cui se non potete giocare per un tocco di giorni non crolla il mondo, non muore nessuno. State pure tranquilli e unitevi allegramente. Detto ciò, ci troviamo qui a Chiovashad e se pronuncio qualcosa male, abbiate pazienza, ma non va a cambiare il tipo di gioco. Ci troviamo proprio qui vicino all'astronoma indicante, vi faccio rivedere la mappa. Questa, questa è molto molto semplice, però alla fine le portiamo tutte per completezza. C'è anche Frixi? Bene, parliamo. Puoi tenerle. Non voglio il tuo denaro. Ti chiedo di ascoltarmi. Lo sento. Una grande calamità sta per abbattersi sulle regioni settentrionali. La porta è in pericolo. Non capisco. È stata sigillata per un motivo e ora quelle bestie cocciute cercano di abbatterla. Ascoltami e fermali. Deve restare sigillata. Va bene. Va bene. Andiamo. Frixi? Sì? Namo? Arrivo. Frixi allenta, non ci fate caso. Ah! 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 Ci siamo. Ed eccoci qui. Ci vostra. Eccoci qui. Chi va adrodaticnle? Mi ch destructive. È l'ag expertise. Cattolone di veleno Ho capito che c'è poca energia Dai è Prixie che mi congela tutti Fai così Noi siamo a livello del mondo 2 Quindi probabilmente se siete a livello 1 sarà molto molto più easy E già così a livello 2 Direi che è decisamente facile E abbiamo completata questa questa è veramente semplice Veloce, indolore, niente di complicato Comunque per completezza vi portiamo anche questo Detto questo Fateci sapere voi nei commenti che personaggio avete preso Che classe avete scelto Che build usate E anche se avete dei consigli condividete Mi raccomando entrate nel can Grazie mille e alla prossima Grazie mille e alla prossima